Nato il 24 febbraio 2009, il duplice diploma ISABAC promuove nei sistemi scolastici d'Italia e Francia un percorso bilingue triennale che permette di conseguire simultaneamente il diploma di esami di stato e il baccalauré. L'ESABAC rilascia due diplomi, quindi c'è la possibilità di avere un doppio diploma che si può spendere all'università per il lavoro. La classe prima e seconda è dedicata allo studio della grammatica. Dalla terza i ragazzi studiano la letteratura e la storia francese. Non intesa solo come un potenziamento linguistico, ma come un diverso modo di affrontare i programmi in un'ottica di integrazione. I ragazzi prendono parte anche in tre scambi culturali con gli studenti francesi a cui sono associati. È proprio un diverso modo di affrontare i programmi, per esempio in una prospettiva anche di relazioni fra Italia e la Francia in un'ottica anche di rilanciare in Italia la cultura e la lingua francese, in Francia la lingua e la cultura italiana. L'ESABAC permette ai ragazzi di apprendere una nuova lingua o una diversa cultura. Perché lasciarsi perdere questa opportunità?